Calabria, terra di conquista e di facili saccheggi. È durissima l'ultima nota dell'ex governatore della Calabria Mario Oliverio che interviene sulle notizie intorno alla bonifica del sito industriale di Crotone. Si sta cercando di far passare che i ritardi del risanamento siano dovuti a pastoie burocratiche e alla diversa visione tra gli enti. Niente di più falso, grida Oliverio. Come dimostrano atti e documenti anche ministeriali, durante la mia presidenza della Regione si era data una concreta accelerata sino ad approvare il progetto di bonifica con la prescrizione che i veleni venissero portati da Eni fuori dalla Calabria. Subito dopo la firma di quel piano di bonifica, stranamente e per fatto completamente destituito di fondamento, Oliverio non è stato più ricandidato alla presidenza della Regione. Coloro che mi hanno succeduto non hanno dato seguito alla realizzazione del piano di bonifica, pretendendo da Eni, come avrebbero dovuto fare, il rispetto degli obblighi stabiliti da quel piano. La notizia di una possibile modifica del piano di bonifica preoccupa Oliverio perché si vorrebbero rimuovere una serie di vincoli in modo da lasciare i veleni a Crotone. È grave che in questi quattro anni che ci separano dal 2019 questa vicenda sia passata nel dimenticatoio salvo risvegliarsi oggi con il tentativo di vanificare quegli impegni. Cosa è cambiato oggi, si chiede Oliverio. Il territorio non può essere svenduto. Chi ha inquinato deve farsi carico di una reale bonifica. Consentire soluzioni palliative di facciata sarebbe un danno per il territorio e la salute dei cittadini. Mi auguro che il popolo di Crotone riesca a sventare questa scellerata manovra e che le rappresentanze elettive, politiche e sociali, ad ogni livello, facciano la loro parte.